Ciao amici, io sono qua con i ragazzi delle community Nintendo, prima di tutto diciamo quali? VGnetwork.it Nintendon.it Smash Bros.it Nplayer NDZ.it E vogliamo parlare appunto di questo Mario Kart 8. Perché ci piace questo Mario Kart 8? Perché è graficamente spettacolare ed è divertentissimo. Perché c'è l'antigravità e perché è troppo divertente. Perché ci sono piste nuove e nuove meccaniche. Perché avrò bisogno di un gioco forte per il Wii U e questo sicuramente riuscirà ad attirare più persone. Perché è un gioco diverso ma è sempre Mario Kart. Qual è la cosa più bella che è stata introdotta? La gravità. La gravità. La gravità? Un solo oggetto per giocatore. Sì, anche se sono d'accordo con Fenor, almeno c'è più strategia. È il nuovo feeling di guida. E invece io voglio sapere, da quale videogioco avete iniziato Mario Kart? Mario Kart 64. Quello per SNES. Io. Mario Kart Double Dash per Gamecube. Per Gamecube. 64. Super Mario Kart. Mario Kart Wii sull'Eretico. Quindi questo Mario Kart 8 è piaciuto a tutti qui intanto parlano, parlano. Perché è uno dei videogiochi più parlati del momento. Che altro dire, venite a provarlo e tornei ai videogames party. a tutti. Grazie a tutti